Ben trovati su canale 81 Lazio, nuovo appuntamento con l'informazione regionale. Iniziamo subito a vedere quali sono le notizie principali, iniziando dalla cronaca e da Aquino, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo di 27 anni di origine cinese è morto soffocato mentre mangiava un trancio di pizza. Gli è andato di traverso e non è più riuscito a respirare collassando davanti agli occhi dei genitori. La famiglia della vittima è nota ai concittadini per essere proprietaria di un grosso emporio a ridosso del centro cittadino di Aquino. Ieri sera per cena avevano ordinato alcuni tranci di pizza, all'improvviso il ragazzo è diventato livido portando le mani alla gola. I genitori hanno capito immediatamente la gravità del pericolo e hanno tentato in tutti i modi di liberargli le vie respiratorie senza riuscirci. Hanno chiesto aiuto al 118 e in pochi minuti un'ambulanza ha raggiunto il posto, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. Ancora sangue sulle strade della capitale. L'incidente stradale con esito mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Case Rosse, periferia nord-est della capitale. Fatale per un 41enne lo scontro fra lo scooter che stava guidando e un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.30. Una Fiat 500 L condotta da un uomo di 59 anni si è scontrata per causa in via di accertamento con un Suzuki Bergman condotto da un cittadino marocchino di 41 anni. Un impatto fatale per quest'ultimo. È morto sul colpo. Sul posto intervenuti il personale del 118 e gli agenti del quarto gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Tragedia al quartiere Collatino di Roma. Un ospite del IH Hotel in via Claudio Truffi lo ha visto salire fino alla terrazza dell'edificio e quindi lanciarsi nel vuoto da un'altezza di oltre 15 metri. È morto così nel pomeriggio di lunedì scorso un trentenne spagnolo con passaporto americano. Sul giallo sta indagando la polizia. A dare l'allarme poco dopo le 17 sono stati alcuni addetti dell'albergo che hanno udito un tonfo in via Amos Zanibelli. Sono accorsi in strada e hanno trovato il corpo dell'uomo. Era vestito in modo sportivo. Nell'impatto con l'asfalto aveva perso una scarpa da ginnastica. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Non è chiaro se soffrisse di qualche patologia o avesse problemi di depressione ma la polizia ha sentito alcuni connazionali che si trovavano con lui e anche il personale in servizio dell'hotel. Parliamo ora del San Camillo Forlanini che taglia sul servizio di pulizia e sanificazione della struttura ospedaliera. Il cambio di appalto porterà una riduzione oraria di circa il 45% rispetto allo storico delle attività effettuate. Per questo il confronto tra i sindacati e le società subentranti si è concluso con un verbale di mancato accordo. Una prospettiva inaccettabile che mette a rischio un servizio essenziale per i pazienti dell'ospedale ma anche il salario e l'occupazione di 350 lavoratori e famiglie. Hanno commentato a margine della fumata nera Filcams CGL Roma e Lazio, Fisaskat Cisl e EWIL Trasporti. Le organizzazioni sindacali sono sul piede di guerra e per oggi è stato organizzato un sit-in dalle 9 alle 13 davanti al San Camillo Forlanini per chiedere garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali. Da ieri sono iniziati i lavori di restauro all'altare della Patria. Il restauro è stato ritenuto necessario poiché l'altare e la sua decorazione si presentano oggi scarsamente leggibili in uno stato di conservazione precario e in alcune zone critico. Le condizioni climatiche del Vittoriano caratterizzate da umidità e temperature elevate per via dell'esposizione al sole hanno favorito il formarsi sulla superficie lapidea di una patina scura dovuta all'accumulo di microalghe, funghi e licheni. Tali organismi, oltre a ottundere la corretta percezione del manufatto, sono causa del degrado meccanico e chimico della superficie. Il restauro è diretto da Edith Gabrielli ed è seguito da Susanna Sarmati e ha come obiettivo primario proprio quello di garantire la conservazione materiale della struttura. E' proprio il cuore del centro di Roma e via del Portico d'Ottavia nell'ex ghetto ebraico il protagonista del festival dedicato all'ortaggio romanesco il carciofo. Si è partito ieri e si è andrà avanti fino a venerdì 31. Quest'anno la seconda edizione del festival punta ancora più in alto coinvolgendo i turisti e partendo dalle ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione. Al taglio del nastro il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida. La novità è anche l'allargamento anche ad altri quartieri e rioni storici come Campo dei Fiori e Piazza Navona. Saranno 18 i ristoranti che aderiscono all'iniziativa con menù a base di carciofo e rivisitazioni moderne anche nei dessert proposti a base di gelati rivisitati con questo ortaggio. Con questa notizia concludiamo l'edizione con il Tg regionale di Canale 81. Vi ringraziamo come sempre e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.